24 Dicembre 2020, Messaggio di Nostra Signora Cari figli, amate l'amore. Accogliete mio figlio Gesù, perché Lui vi ama e vi aspetta a braccia aperte. L'umanità è diventata povera spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. I miei poveri figli camminano come ciechi che guidano altri ciechi e così l'umanità percorre sentiari di autodistruzione che gli uomini hanno preparato con le loro proprie mani. Cercate Gesù nell'Eucaristia. Così come è in cielo, Egli è presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. Come già dissi in passato, questa è una verità non negoziabile. Così come nel passato, i nemici cercano modi per allontanarvi da Gesù. Rimanete sempre con la verità. Tempi difficili verranno, ma voi non siete soli. Il mio Gesù sarà sempre con voi. Non temete. State attenti. Pregate molto. Voi siete circondati da lupi travestiti d'agnello. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli al vero Magistero della Chiesa del mio Gesù. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.